RINNOVARE LA FEDE NEL POPOLO DELLA FEDE Questa la sfida lanciata dagli ordinari cattolici di Terra Santa riuniti in assemblea plenaria a Betlemme a poche settimane dall'inizio dell'Anno della Fede E proprio l'Anno della Fede si auspica possa essere l'Anno dei Pellegrinaggi La Chiesa invita tutti a fare un pellegrinaggio nella Terra di Dio durante questo anno particolare intanto boom di turisti in Terra Santa nella prima metà del 2012 La musica ci aiuta a ritornare alle nostre radici quando la Chiesa lodava Dio a una sola voce Al Gezzemani sabato 22 settembre la prima della Sinfonia Eucaristica composta da padre Armando Pierucci Nuove aule e ambienti rinnovati un nuovo inizio per i Magnificat la scuola di musica della custodia di Terra Santa esempio di eccellenza nella promozione della cultura e della convivenza La parrocchia di Bollate alle porte di Milano e quella di San Salvatore a Gerusalemme unite dal gemellaggio L'accordo è stato firmato nella città santa alcuni giorni fa a suggellare un'amicizia nata già da tempo L'8 settembre la memoria della Natività di Maria celebrata a Gerusalemme presso la Basilica di Sant'Anna la Probatica ovvero nel luogo che un'antica tradizione indica come quello in cui vissero i genitori della Madonna Grazie a tutti